Inaugurata a Cosenza la Gremess Musica contro le Mafie, 5 giorni di incontri, dibatti, di proiezioni, mostre, concerti, utilizzando il potere della musica come strumento di impegno e sensibilizzazione, in particolare dei giovani, nella lotta al crimine organizzato. Gli appuntamenti saranno ospitati nel Centro Storico con serata finale sabato al Teatro Morelli, un concerto unico nel quale si esibiranno Fabrizio Moro, Gaemon ed Eman, artisti che hanno sposato il progetto. Abbiamo scelto questo luogo e il Centro Storico di Cosenza come luogo simbolico di questa 5 giorni di Musica contro le Mafie proprio perché siamo interessati ai luoghi periferici in un certo senso, per quanto questo è il Centro Storico, comunque è una sorta di periferia in un certo senso. Quindi la riqualificazione di luoghi, la riqualificazione anche di persone è fondamentale nel nostro lavoro. Io dico sempre che le colonne portanti di Musica contro le Mafie sono la presenza di Libera, quindi dell'associazionismo antimafia, l'antimafia sociale cosiddetta, e gli artisti, quindi il mondo della musica. Ed è proprio su questi due binari che noi abbiamo costruito il nostro percorso. Quindi noi camminiamo su due binari già tracciati, che sono l'arte, la musica e l'impegno sociale, che è quello di Libera, adesso nostro anche. Da Cosenza per la Cinews24